La Regione stanzierà 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni provocati il 28 e il 29 ottobre scorsi da vento, nuvi frage e mareggiate in molte zone della Toscana e in particolare sulla costa e nelle isole dell'Arcipelago come l'Elba e il Giglio. Il presidente Enrico Rossi lo ha annunciato durante un incontro con gli amministratori grossetani dopo aver visitato alcune delle località maggiormente devastate dove è necessario intervenire rapidamente per il ripascimento delle spiagge al fine di non compromettere la stagione turistica. Rossi si è detto disponibile ad accettare la nomina di commissario qualora il governo accolga la sua richiesta di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Con lo stato di emergenza intanto si potranno utilizzare già i fondi che io stesso ho parlato con l'assessore Bugli domani porterò in consiglio regionale. Pensiamo che si debba arrivare ad uno stanziamento iniziale per l'emergenza di almeno 5 milioni per iniziare a fare le iniziative che consentano i ripristini sulla costa in modo che si possa avere in tempo. Questa sarà la nostra scommessa, la possibilità di proseguire la stagione turistica. A inizio giornata il presidente della regione ha incontrato a Piombino una delegazione di sindacalisti e di operai della FERPI, da giorni in presidio permanente in attesa di risposte dal ministro per lo sviluppo economico di Maio sul loro futuro. Ci uniamo alla richiesta dei lavoratori perché si svolga a Roma alla presenza del ministro una riunione importantissima perché si tratta di garantire ai lavoratori una protezione sociale adeguata per tutto il periodo necessario alla realizzazione dei progetti su cui Gindal si è impegnato. Rossi invierà una lettera al ministro Di Maio per sollecitare ulteriormente l'incontro su Aferpi. Grazie a tutti.